Buon pomeriggio dalla redazione di Florence Multimedia in studio Nicola Giannattasio. Sulla A1 tra Incisa Reggello e Valdarno in direzione Roma, chiusura del tratto per un incidente tra tre auto avvenuto al chilometro 331. Ci sono sette chilometri di coda con uscita obbligatoria ad Incisa. Sulla Fibili per lavori due chilometri di coda tra Ginestra Fiorentina e lastra signa in direzione Firenze. Sul raccordo Siena-Firenze per lavori scambio di carreggiata tra San Casciano e l'allacciamento A1 di Firenze in Pruneta. Sul raccordo Siena-Bettolle scambio di carreggiata per lavori tra Casetta, Monte Aperti e Castelnuovo-Berardenga. Sulla statale 1 Aurelia restringimento di carreggiata tra Cecina Nord e Rosignano. Uoves in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!